You can also make out the fortress enclosure from the Middle Ages. This has been preserved excellently for the most part. High above the town sits Schoenberg Castle, parts of which have been rebuilt. Nowadays there is a hotel in the castle. Sulla riva destra si estende la città di Uva Vesel. Qui colpisce in particolare la costruzione con l'intonaco rosso della Liebfrauenkirche, con la sua torre sottile e riccamente articolata. Si può anche riconoscere la fortificazione medievale che si è conservata quasi completamente in modo eccellente.